Per la sua prima regata intorno al mondo, Jan Kermadek ha dovuto sostituire Frank Dreville e al terzo giorno è secondo in classifica generale. Aveva promesso di telefonarmi. Lo farà più tardi. Porca puttana! Come sei salito? Che ci fai qua? Che ci fai qua, Allora? Non devono vederti! C'è qualcosa che non va? Hai problemi? Ma no, va tutto bene. Ti lascio da qualche parte, è chiaro? So che li puoi battere. Devi avere fiducia e continuare. Vuoi mandare tutto all'aria? Sta tranquillo, so quello che faccio. Sa quello che fa. Sta andando dritto in Brasile. A mia sorella racconta pure quello che ti pare, ma a me di la verità. Non sono solo a bordo. Jan! Jan! Mi manchi da morire. Anche tu. Non vorrei arrenderti proprio ora. Senza di me, puoi vincere! Anche tu. Anche tu. Anche tu. Grazie a tutti.